Quinta giornata Snow Cup, Ajax e New Eagles, risultato sull'8 a 1 al diciannovesimo della ripresa. Passione bastone, è rischiato un fallo contro, ottima prestazione fino ad ora della squadra di Verde, si è presa a battere la punizione, Amato. La palla è rimpallata, sono a bordo campo un fan. La palla di parte Troise, palla in mezzo di battuta dal capitano degli Eagles. Palla in mezzo per Monte, ottima parata. Troise in attacco, passaggio troppo lungo. Palla laterale, allora per l'Ajax. La palla per Monte, attenzione, Amato fa ottima guardia. E non l'ha fatta apposta Giuseppe, non l'ha fatta apposta, stai zitto. Tiro, deviato. Seguiamo questo calcio d'angolo, ci troviamo qui intanto con un fan accannitissimo. Oh, ma qua c'è l'angolo, attravi. Attenzione, la palla è in rete sul calcio d'angolo da parte di Troise. Poi ci siamo qui. Grazie. Grazie.